per la cura del reflusso oltre agli inibitori di pompa protonica è possibile utilizzare anche un'altra classe di farmaci ovvero i protettori della mucosa gastrica in questa tabella trovate il nome di tutti i farmaci appartenenti a questa classe di medicinali tutte queste sostanze hanno un denominatore comune ovvero quello di formare o di favorire la formazione di un rivestimento protettivo sulla mucosa gastrica in questo video vi parlerò in modo specifico del sucralfato e del bismuto colloidale il sucralfato è un composto a base di saccarosio octasolfato e idrossido di polialluminio il sucralfato aderisce alla mucosa gastrica e quindi si interpone tra la mucosa danneggiata e il contenuto acido dello stomaco formando di fatto una barriera fisica che impedisce il contatto tra il succo gastrico e la parete dello stomaco tra gli effetti collaterali più comuni ritroviamo nel 2% dei casi stitichezza e poi nausea in genere il sucralfato non viene assorbito a livello sistemico tuttavia in caso di ridotta funzionalità renale è bene confrontarsi con il proprio specialista prima di utilizzare questo tipo di medicinale dal punto di vista delle iterazioni farmacologiche il sucralfato può ridurre l'assorbimento di alcuni tipi di medicinali che vi lascio in tabella abbiamo la fenitoina la digossina gli antibiotici flurochinolonici gli antibiotici appartenenti alle classi delle tetracicline la cimetidina il chetoconazolo e i derivati e i farmaci per la tiroide anche il bismuto colloidale forma un rivestimento protettivo sulla parete dello stomaco inoltre stimola la produzione delle prostaglandine le quali favoriscono la produzione di muco e di bicarbonato da parte dello stomaco queste sostanze incrementano notevolmente le capacità protettive dello stomaco nei confronti dei succhi acidi il bismuto colloidale può avere inoltre un ruolo antimicrobico nei confronti delle licobacter ecco perché in genere trova applicazione nella terapia combinata per l'eredicazione di questo patogeno tra gli effetti collaterali più comuni vi segnalo la colorazione nera delle feci oppure della lingua in caso di utilizzo di preparazioni liquide l'uso prolungato è fortemente controindicato in caso di patologie renali o insufficienza renale in casi rari poi il bismuto colloidale può causare encefalopatia tossica che inizialmente si evidenzia con una emicrania cronica che può evolvere fino alle convulsioni quindi se state utilizzando queste medicinali e avete questo tipo di manifestazioni vi consiglio tempestivamente di contattare il vostro specialista spero che questo video vi sia piaciuto come sempre se avete delle domande delle curiosità potete farmele nei commenti o scrivermi a info chiocciola voxalcorporation.com io vi aspetto al prossimo video dove parlerò degli altri protettori della mucosa gastrica come sempre vi invito a iscrivervi al canale a lasciare qualche like e soprattutto a condividere i contenuti e ci vediamo al prossimo video